amici siete mai stati baciati dalla fortuna mi ha visto in televisione sono susanna messaggio grazie a tutti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Credo che dobbiamo riflettere su questo e dobbiamo avere la certezza contro gli altri che ci dicono che siamo un partito di plastica, un partito artificiale, un partito che non c'è. Siamo un partito vivo, siamo la gente, siamo il partito più vero, più nuovo! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 E ci riduciamo a dipendere dal sistema. Ma io vi dico sinceramente che se siamo qui è grazie al sistema. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti